Ah, che vita meravigliosa, questa vita dolorosa, seducente e miracolosa Che vita meravigliosa è un album con cui ho lavorato negli ultimi due anni e dentro c'è la mia vita, dentro ci sono le sensazioni che ho provato, ci sono le assenze, ci sono gli incontri, c'è il mio sguardo sul mondo che mi circonda. Non ho mai scritto le canzoni pensando di portarle al Festival di Sanremo, semplicemente è successo sempre il contrario, sono state le canzoni poi a portarmici perché quando ho sentito Fai Rumore, quando ho capito che l'ho riuscito a esprimere con una certa forza ciò che volevo dire, ho pensato che quello potesse essere il palco giusto per amplificare quel messaggio e in un certo senso rendere anche giustizia a quella musica che doveva suonare in un certo modo. Ho sempre pensato alla musica come un'opportunità per mettermi a fuoco, per conoscermi, quindi mi sento molto presente in questo album. Ah, che vita meravigliosa, ah, che vita meravigliosa.